Via Volturno, angolo con via Palestro, zona Cristallo per capirci, ben cinque anni fa nell'estate del 17 la collega Chiara Gaiani su sollecitazione di alcuni residenti venne a vedere questi marciapiedi e i residenti ci hanno contattato nuovamente per far vedere alla cittadinanza, insomma magari anche al palazzo, che la situazione in alcuni tratti di questi marciapiedi non è cambiata per niente. Questo pezzo di pietra che vedete qui c'era anche cinque anni fa così cadente, ma cadente verso dove? Cadente verso il patrimonio delle mura rinascimentali di Padua e si trova esattamente dietro la fermata coperta dell'autobus numero 9 e numero 6 se non ricordo male, esatto ho indovinato e quindi questo è così da cinque anni. In questo punto le mattonelle del marciapiede sono già franate e non è l'unico punto. Il marciapiede sta franando di giorno in giorno nella canaletta per la continua erosione, qui è sottoposto. Questo è anche pericoloso per la fermata dell'autobus che sta, tutti i mattoni e parte del marciapiedi cadono sul canale. Risalendo via Volturno, questa è la situazione dei marciapiedi e ripeto, non ce ne saremmo occupati stamattina se non avessimo ricevuto un'altra segnalazione dopo cinque anni da un nostro servizio televisivo appunto girato da Chiara Gaiani e da un collega operatore appunto nell'estate del 2017. Siamo a segnalarvi nuovamente, a segnalare al comune la situazione, ecco l'asfalto è crepato in più punti, questo marciapiede è usato tantissimo anche come pista ciclabile perché è l'unica disponibile in questo tratto di strada nel senso di risalire da quartiere palestro verso Corso Milano con la bicicletta altrimenti c'è dall'altra parte ma quindi è un po' pericoloso oppure ci sono gli autobus, bisogna fare attenzione, ci si becca qualche suonata di clacson eccola, speriamo magari domani contattando l'assessore Andrea Michalizzi e vice sindaco che si occupa delle manutenzioni di poter vedere se si può risolvere questa situazione che da un lustro è ferma così in via Volturno.